Ciao a tutti, sono Bubins, Gregor Müller, Alan Agrafe. Sono un artista emergente di Lugano e oggi gli amici di Tio sono venuti qua a trovarmi nello studio di Lugano. Mi hanno concesso questa grande intervista nel mio spazio in centro, appunto, dove vedrete una carrellata, diciamo, di mie opere che vanno dalla pop art alla street art a dei messaggi politici, di critica sociale, a delle cose, diciamo, anche un po' più divertenti. Spero che vi piacciano e nel caso vi aspetto qui nel mio studio, insomma.